Mi chiamo Giorgia Todisco, ho 21 anni e vengo da Brandizzo, un piccolo paesino fuori Torino. Sono un centrogompista centrale, come caratteristiche sono molto tecnica, ma comunque sia sono molto duttile e mi usano spesso in svariati ruoli. Ho iniziato molto presto a giocare a calcio e subito sono andata a giocare nel Torino a calcio femminile, dove ho esordito a 15 anni in Serie A. Ho fatto tutte le varie giovanili delle nazionali, poi mi sono spostata a Cuneo, subito dopo a Luserna, dove siamo riusciti anche a salvarci da neopromossa. Adesso sono qui a Sassuolo e spero di far bene con questi colori. È un'ottima realtà, infatti ho portato subito bene la notizia di venire qui, sono molto contenta e è ancora tutto aperto per il campionato. Nonostante la giovanità, spero di portare quell'esperienza che ho e un entusiasmo nuovo per poter lottare fino alla fine. È normale fare bene con questa maglia, non solo personalmente, ma proprio per tutta la squadra e per la società. Grazie. Grazie. Grazie.